Benvenuti nel parco del Monviso. Stasera piazzeremo la tenda qui a Pian del Re. Domani se lieremo qua su. Allora, buongiorno. Stiamo partendo di reazione Monviso. Vetta. Buongiorno a tutti quelli che ci vedono. Anche a voi, anche a voi. Ciao ragazzi, ciao. Andiamo su. La prima nostra tappa è il lago di Fiorenza. Questo qua. E lassù la nostra cinema di domani, il Monviso. Allora, la prossima tappa sarà il lago Chiaretto, quota 2.261 metri. Per poi proseguire al rifugio Puntino Sella. Allora, siamo arrivati al lago Chiaretto. Questo c'è un fondo. ha un colore vivacissimo, proprio turchese. Siamo arrivati al Colle del Viso, quota 2.650 metri. Andiamo in direzione al rifugio Puntino Sella. Allora, adesso stiamo facendo un tratto attrezzato. questo panorama. Ora proseguiamo fino a su. Siamo arrivati alla selva, c'è un po' di vento. Questo panorama. Adesso ci aspetta l'ultimo tratto fino al pivaccio Andreotti. Quella lì la cinema è il Monviso, quello che faremo domani mattina. Mentre questo è il Visolotto. Allora, sono le ore 4 e mezza. Stiamo quota 3.100. Ci manca l'ultimi 100 metri di livello. Cosa mi rimane a dire? Abbiamo a Condriotti. Un po' di venticella. E si va su. Allora, sono le ore 5 e 7 e finalmente siamo arrivati al bivacco Andreotti. Un po' di venti. Sì Questo è l'interno Allora sono le 8 e 20, qua abbiamo il sistema di letti Claudio già sta in via di estinzione E adesso vi faccio vedere un po' il tramonto Buongiorno a tutti, sono le ore 5.34 Ora si fa colazione Buongiorno E niente, mangiamo... Io mangio sto maridozzo con la nocciolata Casco montato Buongiorno Si va Buongiorno Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, sono le ore 7.40, siamo qua da 2006. Manca 200 metri di sivello. Questo qui è il gendarme, testa d'aquila. Grazie a tutti. Molto bello. Grazie. Grazie a tutti. Dai, uomo. Poi sono intrati un boss post. Grazie a tutti. 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 Allora, sono le ore 8.40 e siamo in vetta. E' stata un'esperienza unica, toccare la vetta del Monviso. Eccola qui. E ora si riscende il taschetto e si va. Sotto ci sono altri alpinisti che stanno facendo la stessa che è nostra. e si va. Allora ragazzi, vetta conquistata. Ora stiamo riscendendo verso il rifugio Quintino Sella, ci aspetta una bella polenta. Buon pranzo, bravo. Grazie, buon appetito ragazzi. E anche il Monviso l'abbiamo conquistato. Vediamo la prossima domina. Grazie a tutti.